Cominciamo! Vogliamo il vostro sguardo, vogliamo i vostri volti, perché ogni volto è un romanzo, ogni volto racconta una storia. C'è forse qualcuno qui che non è contento di gridare! Maiakowski, bravo! Maiakowski, benissimo! Maiakowski, bellissimo! Che senso ha? Che senso ha? Sei tu! Solo! Solo! Salvi! Di salvi! Ciao! 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 Grazie a tutti.